benvenuti questo nuovo video assenza di quasi due mesi circa è dovuta dal fatto che faceva gallo chi aveva voglia di stare qua al computer a editare un video o fare qualcosa insomma poi che sono preso il mio spazio di riposo e niente questo video vado a spiegare alcuni aspetti alcune cose che ci tengo un po a precisare nel senso tanto apro un'altra cosa che poi andiamo a vedere che questo video sarà tipo capitoli insomma il primo capitolo è che forse sarà un po lungo che ho voluto prendermi un po di tempo di riposo e di rilassamento eccetera eccetera insomma la seconda secondo capitolo è la spiegazione di una cosa che mi è successa e che il 14 mi pare di di luglio avevo postato su youtube il video degli audio fatti da voi e quindi c'è una specie di sincronicità perché il lunedì il 15 oggi è il 15 guardate giusto giusto due mesi è successo che al mattino durante diciamo una pausa lavorativa io stavo lì diciamo a pregare e pensare e parlare con papa dio e gesù su tutto l'accaduto degli audio fatti da voi quello che ho imparato e che è successo ma chi vivevo tra me e me diciamo sarò ancora nelle grazie dei ministri di papa dio di gesù eccetera eccetera nella stessa mattina anche la mia cara amica pregava gesù di dire farmi il favore il piacere di stare a fianco ad amo mi manda un messaggio alla sera ovviamente la mia amica non sapeva che io parlavo tra me e me diciamo tra me e loro mi manda un messaggio la mia amica mi dice guarda amo stamattina stavo pregando per te e ho chiesto di giù a gesù di stati a fianco e risposta è stata molto interessante nel senso cioè quello che mi ha detto è stato molto interessante perché gesù gli ha risposto ovviamente lei ha le capacità medianiche di fare questa cosa nel senso gli ha risposto guarda cara io sono già qui con lui e questo mi ha fatto molto piacere perché già questa cosa mi stava rispondendo a un a una mia domanda però mi manda anche un messaggio nel senso che non è molto lungo ma non lo sto anche qui a recuperare a farvi vedere perché insomma il succo del discorso era un po quello che dicevo io in quel video del 14 luglio che tutto quello che era successo era successo per una motivazione molto semplice perché dovevo capire che prima di tutto quella situazione di audio fatti da voi era sbagliata e seconda cosa dovevo trarne beneficio perché quando succede qualcosa nella vita dobbiamo capire perché ci accade perché ci viene proposta questa situazione o una situazione in generale e soprattutto dobbiamo trarne un beneficio non bisogna pensare sempre che le cose succedono perché siete sfortunati invece no succedono per una motivazione molto semplice se la capite oggi ok e non vi ricapiterà se invece non la capite vi ricapita ancora magari in un altro aspetto in un'altra situazione un'altra motivazione eccetera eccetera se anche in quel caso magari non non riuscite a capire il nesso o tirarne fuori il succo del frutto del discorso vi capiterà ancora magari in un'altra vita in un'altra situazione perché comunque siamo qui per imparare non solo a livello umano ma anche a livello anemico carmico eccetera eccetera insomma è una questione un po abbastanza lunga e complessa spiegare determinati aspetti della nostra vita perché ci accadono e perché magari ci vengono riproposti eccetera eccetera e niente il succo di discorso era che Gesù mi dice non sono intervenuto ho visto non sono intervenuto per mettere a posto la situazione di anime basse e angeli caduti per una motivazione molto semplice che io spiegavo nel video perché doveva accadere punto non intervengono negli sbagli che comunque facciamo noi in modo chiamiamolo stupido ma poi come vedete ci dicono il perché anche cioè a volte ci dicono anche perché almeno io sono fortunato per sapere di sapere il perché ma poi l'avevo capito insomma quindi il discorso era quello nel senso non è intervenuto perché dovevo trarne un qualcosa dovevo trarne un beneficio anche tra virgolette la seconda cosa secondo capitolo è che molta gente mi ha scritto e mi ha detto ah mi dispiace di quello che è accaduto eccetera eccetera altre persone e questo mi ha dato non dico fastidio mi ha fatto pensare che purtroppo c'è poca cultura in quello che magari esempio in questo caso faccio io nel senso perché è stata così una frase era mi dispiace di quello che è caduto ma potevi proteggerti e beh certo grazie grazie graziella e grazie a qualcos'altro insomma si dice così nella vita allora spiego questa cosa perché così faccio capire anche quelle persone che magari hanno il pensiero così distorto che poi ci sta perché comunque non ci arrivano mentalmente nel senso bisogna dargli una mano quando uno fa diciamo metafonia fa il cartomante al pendolo fa qualsiasi tipo di cosa e qualsiasi tipo di situazione che va a allacciarci in un'altra dimensione a mondo spirituale eccetera 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 altri uno ha il suo step nel senso magari chi vuole pregare prega chi vuole ascoltare un po di musica per rilassarsi lo fa anche vuole svuotare la mente lo fa eccetera 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 e poi fa quello che deve fare in questo caso gli audio fatti da voi da tornano ultimo indietro perché mi sono dimenticato una cosa o chi si crea una bolla gialla verde blu d'arancione eccetera 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 che poi queste tipologie di protezione possono funzionare fino a un livello cioè anime un po dislocate nel loro cammino verso la luce cioè che non hanno ancora capito un po determinati cose o vengono sfruttate per un determinato evento da creare a una persona eccetera eccetera oppure sono state diciamo raggirate in sempre da comunque da anime magari più basse o da peggio poi arriviamo al peggio uno come dicevo si fa preghiera di quello che è la sua metodica prima di fare una determinata situazione poi chiude chi fa il cartomante la metafonia eccetera eccetera chiude e chi chiede oppure pensa di aver chiuso la questione lì è chiuso il portale il portale in metafonia è un po differente nel senso che in metafonia quando uno come me chiama una determinata anima o due o tre o quattro arrivano i ministri e le portano loro in quel caso quando poi tu finisci la metafonia i ministri poi ci sono spiriti guida eccetera eccetera angeli custodi insieme a loro eccetera eccetera una cosa un po complicata prendone se ne vanno non rimangono in casa tua può capitare che vengono in casa ancora prima che tu fai metafonia perché loro sanno che tu farei metafonia quel determinata ora quel determinato giorno perché io chiedo qualche giorno prima di organizzarsi insomma non accende dico chiamo arrivano insomma c'è tutta un una preparazione non è che uno arriva c'è nella radio chiama via ognuno ha il suo metodo io un metodo differente scusate e comunque vale ognuno c'è al suo metodo eccetera allora la questione degli audio fatti da voi era un esperimento lo dice la parola stessa esperimento io non potevo sapere quando una determinata persona poteva fare un audio quindi la domanda che io mi pongo e pongo anche a voi come fai a proteggerti primo come fai a proteggerti soprattutto su con anime base poi andiamo al peggio andiamo al peggio pensando ai angeli caduti come fai a proteggerti con un angelo caduto secondo te un padre nostro non ave maria ti tiene lontano non penso proprio perché bisogna conoscere la storia la storia dice chi crede in dio in gesù e gli angeli deve credere anche per forza negli angeli caduti chiamati demoni un demone non è qui da da ieri come siamo noi che siamo qua da ieri sono quale millenni e se voi credete di essere più furbi intelligenti più bravi e più colti di loro vi sbagliate proprio cioè vi sbagliate proprio di brutto non sapendo che faccio un esempio è perché bisogna comprendere una determinata cosa e situazione un angelo caduto può entrare in chiesa tranquillamente si può sedere e sentire la messa senza dire oddio sono sono spaventato dalla messa da un padre nostro dalle maria o dal gloria non esiste cioè gli può intaccare un qualcosa una preghiera in latino quindi la storia insegna anche se voi vedete in vaticano spesso e volentieri fanno le messe in latino per una semplice ragione perché loro lo sanno non è che non lo sanno cioè non è che tu ti confessi vai a messa e prendi l'ostia sei protetto contro a un angelo caduto volgarmente chiamato demoni quello che può attaccare allo stesso psicologicamente fisicamente moralmente vi prosciuga le energie vi ribalta come un calzino se voi pensate che non è così affare vostri molto semplice ecco allora in questo caso io non potevo sapere quando uno faceva un determinato video quando uno video audio scusate me lo mandava quando uno prendeva con leggerezza come ho detto in un video del video che qualcuno ha preso come leggerezza come mandare un video un amico qua si trattava di avere un contatto col proprio caro che nell'altra dimensione altri livelli spirituali eccetera 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 che poi pagati vostro caro era stato magari pregato raggirato eccetera eccetera come dicevo all'inizio di questo video insomma è una cosa un po complicata la domanda è come proteggersi non è che c'è molta protezione con quando arriva un angelo caduto esistono esempio esorcisti e esorcismi proprio fatti per questo nel senso che ci sono persone che sono dotate prima di tutto hanno studiato seconda cosa e terzo sanno come copertarsi in questi in queste situazioni e quindi è facile dire è protege potevi proteggerti meglio insomma è una parola detta così ma ha una sostanza molto specifica e importante insomma dirlo così come dire buongiorno buonasera buon pomeriggio cioè lascia un po il tempo che trova e anche qui mi sono fermato in questi due mesi per capire questa questa cosa nel senso quanto poteva essere culturalmente capibile una situazione di questo ieri nel senso perché un conto è non so capire un funzionamento di una macchina come la macchina che usiamo tutti i giorni tu sai che giri la chiave la macchina parte però non sai che ci sono componenti tecniche e che fanno andare nella macchina insomma se non gli metti della benzina la macchina non va o diesel o elettricità insomma è facile dire fai benzina è grazie però se uno non c'è soldi per farla cioè capite che cosa sto dicendo che cosa voglio dire ultimo capitolo che non voglio dilungarmi troppo perché settimana scorsa domenica no sabato scorso ho fatto una mini registrazione di un minuto e niente è arrivato un messaggio due messaggi metaforici uno che diciamo che è carino nel senso è scherzoso che adesso andremo a sentire vedere sentire più che vedere e l'altro un messaggio personale abbastanza importante anzi abbastanza importante o meglio importantissimo andiamo a schermo intero così andiamo a sentire registrato con la radio online del sito animi senza il purgatorio perché c'è la radio ma c'è anche in adamo paranormo questa traccia messa in reverse senza pulirla rallentarla eccetera perché a me non piace rallentare e modificare alterare per far sentire la voce più forte lo potrei fare ma mi interessa poco nel senso magari adesso ci proviamo ci proviamo lo so non è che se non diventa lungo modificare alterare la traccia a me piace arrivare che arrivano così le tracce molto semplici anche se magari non sono capibili a livello uditivo perché anche qui c'è gente in continua dopo otto anni sono sono rumori anche qua ho preso una pausa di due due mesi anche per questo non solo come anche la geni di essere bidimensionali non esistono va bene contento te io non è che molti messaggi di cancello ormai non li aprono neanche più perché inutile stare lì a spiegare una determinata cosa vedi un video non vedi il resto del video non vedi le canalizzazioni non vedi i vari documentari di persone che sono più intelligenti di me che hanno trattato questo problema di essere bidimensionali tipo 20 anni fa 30 anni fa cioè ormai sono millenni sono qui sono arrivati prima di noi sono arrivati quando noi eravamo qui ci sono diverse tipologie di razze eccetera eccetera insomma sono anche stanco di continuare a dire insomma le stesse cose insomma ma uno prima di scrivere ci pensa che non è il primo a scrivere una grande stronzata molto semplice detto così quasi una parolaccia insomma arriva un po arrivaci un po' con l'intelletto di dire sarò il primo aveva scoperto l'acqua calda l'acqua calda è già stata scoperta due miliardi di anni fa insomma mamma mia e andiamo schermo intero e andiamo a sentire la traccia allora siccome vabbè dai non prendi ombrello sentiamolo meglio perché settimana l'altra ormai è finito il caldo ha cominciato a prendere a arrivare diciamo il freddo e arrivare ci sono stati tre quattro cinque giorni di pioggia e questo semplice messaggio che dice non prendi ombrello mi fa capire che loro mi vedono cioè ormai io lo so che mi vedono insomma ragazzi cioè di che cosa vogliamo parlare e comunque stanno a significare non prendi l'ombrello che magari piove ok va bene andiamo la prossima questo è più complicato è un po più importante ecco qua dice permesso permesso mai in bacheca cioè c'è un permesso che è il mio di continuare a fare metafonia questa è la mia spiegazione poi ognuno ci vuole tirare fuori quello che vuole in questa straccia e noi stelle ti diamo ti diamo una mano ti diamo una guida eccetera eccetera cioè poi questo è stato lo ripeto altre volte se sentite questa traccia è molto molto bella e interessante perché non è una voce sola viene sovrapposto due o tre voci insieme vuol dire che comunque ci sono varie varie guide vari ministri che stanno dicendo ma che tu hai il permesso in bacheca ti portiamo oro ti diamo una mano un aiuto se vuoi continuare ad andare avanti insomma il mio bel faccione che non si vede da due mesi ecco è molto semplice anche questa traccia audio non porti ombrello e poi che hai un permesso in che che anche questa cosa io continuavo a chiedere chissà se posso ancora dare una mano le guide e darci una mano a vicenda in metafonia insomma questa è stata un'entrata spontanea io ho aperto radio o ho chiesto se qualcuno aveva qualcosa da dire ed è arrivato questo in un minutino 50 secondi e questa cosa sarà portata avanti nel senso farò sempre così adesso non chiedetevi più contatti privati non ne faccio più per il momento non ne faccio più magari tra un mese due mesi mi gira e dico va bene faccio qualche contatto privato adesso come adesso non ne faccio così siete costretti a vedere il video perché con i messaggi privati con le sessioni private è sempre stato così è sempre stato un po strano nel senso che lo vedeva chi era interessato veramente nei messaggi metafonici e capire la tipologia dei messaggi che arrivano e capire anche il sonoro eccetera eccetera e il diretto interessato e poi basta insomma non li vedeva nessuno non li vede nessuno questi video oppure sì va bene lo vedono mentre fanno qualcos'altro non c'è un'attenzione pura e questo me ne dispiace un po quindi la decisione è di fare entrate spontanea nel senso io chiedo le guide e chiedo proprio dio a gesù le guide e ai ministri se vogliono dire qualcosa se vogliono portare loro di dire il nome di lasciare un messaggio così quando io farò il video voi guardate il video e capite se il vostro è il vostro caro o meno molto semplice efficace veloce e niente per fortuna che è tornato il fresco sta arrivato cioè è arrivato il fresco perché di sto caldo non ne potevo più e niente sono stato sotto i 30 minuti pensavo di parlare di più invece da e quindi al prossimo video ciao